Sì, peraltro il gol è arrivato oltre il 46esimo, che è esattamente quando... 25 secondi dopo. Esatto. Non c'è una regola in cui è a distrazione dell'arbitro rispettare il vero però che dà, però... No, è solo per ricordare le regole, perché anche rispetto agli episodi, e lei faceva riferimento agli episodi, grazie, stiamo cercando di spiegare a chi è a casa cosa, qual è la regola e qual è il buon senso. No, sull'arbitraggio posso dire una cosa? Sì, certo. Che sarebbe il tempo di aiutare gli artisti, no? Perché il gol fantasma e sapere se c'è rigore o no, se il fallo è dentro l'area, mi sembra che dopo una partita così, che è veramente il tempo, il tempo di aiutare gli artisti. Guardi, grazie, sarebbe proprio interessante, perché io sono invece contrario all'uso della moviola in campo e le faccio vedere gli episodi, così vedrà che questo è proprio uno di quei casi che la moviola non risolverebbe niente, perché è difficilissimo, perché sono veramente questioni di centimetri capire se è in aria o fuori aria. La tecnologia la dà, il centimetro o no, ma sì, siamo al venti uno secolo, la dà proprio il centimetro o no. No, ma c'è una palla, metterò fuori, ha ragione lei? O fuori, è semplice.